Ciao palliii Ho voluto Ho successo Ho sperimentissimo Siiii 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 Noi no Guardami 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 Siiii Oh che finisco Siiii Uso il terminale Eh vai Scrivi, scrivi quanto, scrivi quanto sei tu Ma termine la tua di vita per favore No Io ho scritto, ho scritto cazzo ma non lo trova? No è pienita della pica Raul, Raul anche te devo fare un altro posto anche a te, vieni qua, vieni qua Facciamo Dio santo ragazzi Allora io vorrei stare con Raul per scimmare Ok ci stavo bene State con me ragazzi Ok va bene siamo per scimmare Aspetta aspetta State con me non perchè vi voglio bene ma perchè fate più clip degli altri Allora dai vatate davanti Voi entrate all'entrata principale e noi a quella secondaria Entra la mina, la mina, la mina, la mina, la mina, la mina Rattata aia coi, dai da papa alla maidate cappé Allora dai dai daubo a아서 Easy Sims Aspetta Applausi Ted �made Pammosa Vot Arthur stiamo andando a buttare a bravo Stiamo andando a portare il pane Popo sei l'unica cosa... l'unica donna che si può andare è su quella pagamento vecchio dai, per favore Cazzo, ci sta eh Cazzo, ci facciamo, ci niente? Ragazzi, il mostro Nel dubbio, mi è venuto bene Halloooooooooo Ok, ce l'ho fatto Vai, adesso provo voi, adesso provo voi Anzi, ve ne andate voi, andate voi Nooo! Zioooooooo Cosa? No, no, ho visto cosa stravolta No, 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 aspetta, richiede, richiede No, 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 no Ci siamo trovati, ehi Ci siamo trovati con l'altra squadra, eh Aspetta, zitti Ditti tutti, ma fate cagare voi, ragazzi Dai, sciù Ma cazzo, ragazzi O, FADONNA Non c'è niente di là, non torniamo pure Aspettate, aspettate un attimo, che cazzo sta agli altri? Dove? Scusa Che cazzo sta agli altri? Allora io ho preso un pochino Oh mio dio Non vedo più cazzo, io non vorrei dire nulla Dai andiamo alla nave, via Ma dai, mi avete fatto cagare in mano per niente? Non ci siamo Non comincio la nave, ciao, ciao Non ne idea Comunque sono le... Near activity detected Cosa? Fermi, fermi alla porta, near activity Io entro, ma fa un culo che già sa che No Mamma, mamma Vacca che infarto, se lo sto suonando, che è successo? Eeeh, allora Matta è morto Allora, c'è Ehm, Michele che sta cercando il... Cazzo vacca Ecco l'ho trovata Ecco, il pisellone luminoso, ecco appunto, l'ha preso Michele Però non so dove sia Dai, Jaco, se la farei... Ah, cazzo, quello qua, matta Senti, proviamo... Facciamo gli uomini... Gli uomini seri, dai Dai, seguimi H-T 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 Comunque, come stiamo? Eh, la madonna stiamo a tantissimo. Comunque, basta. Che te offendo, se non te che vedi. Cazzo sta... Ma... Cosa? Come, scusami? Ragazzi! Cazzo è successo? Ti metto una mano, aspetta! Ma cazzo è fuori! Ma... Ma cosa è successo? Non l'ho capito! Basta! Ma che... Ma... Oh cazzo, sono dentro armati! Sono bene! Si rotto le pale! Si rotto le pale! Niko! Niko si è crashato! No... Eh, no, no, niente dio! Vai avanti! Oh, neocriti! Un'altra bestia! No, 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 un'altra bestia! A sigla sotto! A sigla sotto! Oh, no! Chi è che... Chi è che è là, il ground? No, ma... Deridiamoli, ragazzi! Deridiamoli! Sì! Ah, ma... No, cura! Uh! Ah, no, è... Focchi! Ti lo metto, prendiamo, prendiamo! Oddio! Come due! Come due! Sì! Abbiamo tutti i celloni luminosi! Sì! Sì! Basta! Sì! 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 Il V-Type engine! L'abbiamo rubato da una qualche master! Soprattutto se consideriamo che... Dai! Soprattutto, dicevo... Dai! Sinceramente andiamo su marzo, perché almeno... Su marzo? Sì, sì! Però che abbiamo su marzo! A marzo... A marzo non ci siamo mai andati, ragazzi! Siamo sempre andati... Siamo sempre andati... Siamo sempre andati ad Augusto, a marzo! Vai! Allora, Raul, Raul, grazie! Vieni che se tu caschi... Rai! 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 Non hai simmato, però hai preso... Sì! È davvero? Sì! Sì! Ragazzi, ragazzi! Cioè, simmiamo! I mostri non ci arrivano! Sì! 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 Siamo... Siamo uno spunto! Mi sono sparato! Puro spunto! NICO! 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 Noi non c'è! Stavate laggando, non mi era! Comunque, guarda qua, guarda qua! Vabbè, lo schiavuto! Guardalo! Allora, fermi un attimo, fermi un attimo! Io porto questo fuori là! Ragazzi, c'è un mostro! C'è un mostro! C'è un mostro! C'è un mostro, ragazzi! Dove? Dove è il mostro? Uuuuh! Nella porta, Nella porta, Nella porta, Nella porta! Nella porta! Cazzo! 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 Cosa? È un bracker! Non è un bracker, ragazzi! È un bracker! È un bracker! Un bracker? Ma Matte, perché non è uscito? No, no, Matte è fuori adesso, con voi! C'è un oggetto all'entrata! Troviamo! Allora, io ritorno... Ragazzi, ragazzi! Ho visto un bracker! Eh sì! C'era già vero! Infatti c'era giù l'unico! Allora! Ma per fortuna ho trovato un'altra uscita! È un mostro più avanti, quindi non so... È un bracker! Via, via, via! Scappa! C'è il coso quello di velocissimo! Scappa fuori, Jacopo! Ok, sono scappato! Ehm... Jacopo, se esci dalla principale... Abbiamo... Nerviare! Ok... Va bene! Dai, secondo me... Ci sta se ci proviamo! In quanti siamo, Vivi, ancora? Ciao! Eh, non so, Vivi! Dovrestai essere... Dovrestai essere voi due, là davanti! Ehm, voglio venire qua! Cioè, ma si può morire... Dalle sabbie mobili? Dio! Si va! No, ma io... No, vabbè! No, va a cadere se ti prendo un fulmine, va a cadere! Buona donna! Vai! Beto, vai! No, vabbè, dopo veramente... Sì! 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 Va a andare, basta! Te ne puoi spaccare i cazzo! Ancora! Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! Ma che va ancora! Ecco! No, no! Vadove lo compro? Store, Bungo! Dai, pirla! Sì! Sì! Ma puoi cambiarle a comando o... Sì, 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 basta! Spegnere e riaccendere! Sì! Ah, vabbè! Ah, va bene! la sua sua chite iru secai beh i chavo arute usodai Yoshi già buggerà 1 6 3 4 4 4 5 5 10 12 13 13 14 14 14 14 Eccolaaaa Allora dopo c'è ancora l'altra No lascia Eccolaaaa Aspetta andiamo dentro questa qua sotto Aspetta caricalo 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 Andiamo di notte con questa Dai dai Vai 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 Cazzo 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 no no Fa rumore Fa rumore Vai Eh ma te Aspetta fermi che ci sente io Diti che ci senti Sì 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 No No scappa 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 via Scappa via Andre Ma ti vedo quella Io ero steve Vediamo Sì funziona Sì funziona No Dio Cosa manci il cretino Cosa dovresti provare a fare Eh Il server Ma ok Dai Cazzo 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 Andre Io ti ho invitato Eh Dio Gionacca sei un po furbi a sto mondo Eh mutate Mutate Vabbè Vabbè andiamo Mutati Vioca Non farà per niente casino Ma no Sei tranquillo Non attirerà nessuno Dai Aspetta fermo Andrei 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 Esci dalla porta E rientra Aspetta Aspetta De nada De niente Dove è la mina Dove è la mina ragazze Dove è la mina Qua 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 Ma è qua Ma è qua Scusa La mia Sì Ma è qua Aspetta dove è la mina Aspetta Oh cazzo Matte 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 Facciamo di poter la nave prima RMB Vai tu porta quello Dai Io l'ho portata Mina An'altra mina Diciamo un'altra Mi la foda Dove? No figlio di put No Hanno messo il corno Sei deficiente Di un coglione Per forza Dove cazzo si va adesso Porco 2 Porco 2 Porco 2 Porco 2 Porco 2 Mamma Dico il cieco Ce la possiamo fare Raoul Smartini Vai Porco Di nuovo il coso Bravo Ciao 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 Ok ho aggiunto note a cazzo Comunque posso dirti che c'è un f***a Cazzo 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 Mi sa che mi sono vissuto da da su Non intendo che ti scappano Sei vivo? Sei vivo? Sei vivo? Tu ria No cazzo Ciali 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 Qua qua No è morto No è morto È morto È morto È morto Eh sono Noce Che ha seguito Noce? Noce 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 Grazie.